Arco, arco, arco! La posizione del 17enne residente a Senigallia e fermato in un'abitazione con altre due persone e un quantitativo di droga si era già alleggerita dopo che erano emerse testimonianze che gli davano un alibi per la notte della strage e soprattutto dopo l'arresto, la scorsa estate, della cosiddetta banda dello spray, sei giovani tra i 19 e i 22 anni residenti nel Modenese, che avrebbero innescato la calca alla lanterna azzurra usando la sostanza urticante per rubare catenine e monili nella confusione. Un modus operandi impiegato dal gruppo in tante altre occasioni e in varie località. Ha restato con loro anche un 65enne che avrebbe acquistato i preziosi rubati. Nel filone principale dell'inchiesta della procura di Ancona ci sono poi ulteriori 17 persone, le cui responsabilità sono legate alle condizioni di sicurezza e ai controlli dell'immobile usato come discoteca. Tra loro i proprietari dello stabile, i gestori della discoteca e un addetto alla sicurezza.